Stiamo vivendo una capitolazione rialzista del mercato guidato dai semiconduttori. Gli americani parlano di melt up in questo caso, ma il concetto è quello, c'è una forte accelerazione dei mercati, in questo caso guidata dai semiconduttori. Cercheremo di capire oggi perché, anche perché il settore dei semiconduttori, nell'ultima settimana, come dimostra il principe in questo momento di questo settore e anche dei mercati finanziari, il re, anzi potremmo dire, cioè invidia, ha vissuto una settimana di prese di profitto con un calo del 4%, come si vede da questa candela settimanale, in cui il titolo, dopo aver messo a segno un nuovo massimo storico a 140 dollari, ha poi ritracciato e è andato a chiudere a 126. Lì i venditori si sono fatti sentire, sono scattate probabilmente prese di profitto, la domanda che tutti si pongono è, sono prese di profitto oppure è l'inizio di una correzione importante di questo settore che ha trainato il mercato e che allo stesso tempo, diciamo, sostanzialmente, su cui si regge il mercato in senso lato, i principali indici azionari. Se viene giù invidia, chiaramente il mercato si prende una bella scopola, visto che invidia è diventata ormai la prima società al mondo per capitalizzazione, contende questo primato ogni giorno per una piccola manciata di miliardi a Microsoft ed Apple, ormai ogni giorno il podio viene magari variato, ma sono tutte lì oltre i 3.200 miliardi di dollari, in tre valgono quasi 10.000 miliardi di dollari, valgono più dell'intero listino cinese. Quindi questo per dire a che punto siamo e a che livelli è arrivato questo melt-up guidato dai semiconduttori. Ovviamente non abbiamo la pretesa di rispondere alla domanda se è finito il rialzo o meno, altrimenti avremo la sfera di cristallo, ma con qualche ragionamento anche basato sulla stagionalità, sugli utili eccetera eccetera, magari si può provare a comunque analizzare il contesto e poi ognuno di voi può trarre le proprie conclusioni in base anche alla propria operatività. Questi video non sono mai consigli operativi ma soltanto di educazione finanziaria, così come i miei articoli sul Sole24ore che trovate in descrizione. Comunque Nvidia ha avuto questa correzione, andiamo a vedere i tre aggregatori del settore, abbiamo il Philadelphia Semiconductor, che è Sox, trovate Sox, anche questo vedete massimi storici, correzione più lieve, solo dell'1%, massimi storici, questo indice è molto importante per quanto riguarda i semiconduttori. Poi abbiamo in un altro molto seguito il VanEck Semiconductor ETF, SMH il Ticter, e poi abbiamo l'XSD, che è l'S&P 500 Semiconductor, che ha fatto recentemente breakout del massimo storico dell'inizio gennaio 2022, aveva fatto poi, era partito il Bear Market, poi aveva trovato un minimo nell'ottobre del 2022, un altro minimo più alto nell'ottobre del 2023, e poi da allora è partito. E adesso è lì che sta cincischiando con i massimi storici. Questi tre panieri, vi invito a seguirli, a studiarli, eccetera, sono tutti e tre focalizzati sui semiconduttori, ma hanno delle composizioni diverse. Se l'XSD è sicuramente quello dell'S&P 500 Semiconductor, vedete che ha, diciamo, First Solar al primo posto come peso, poi c'è NVIDIA 386, Micron Technology, Sirus Broadcom, eccetera, eccetera. Vedete, questa è la composizione dei principali titoli all'interno di questo paniere che ha corso meno rispetto al SOX, che è sui massimi storici, e che ha una composizione, vedete qui i primi 30 titoli, anche abbastanza diversi, è un po' più, forse, un po' più spinto questo SOX da un certo punto di vista. Comunque, vi invito appunto a studiarli, perché è questo il settore che sta guidando il mercato in maniera importante. Lo vedremo adesso in termini anche di utili, non soltanto di speculazione, di andamento, eccetera, eccetera. Chiaramente ci sono un po' tutte, ma è un indice che ha fatto molto meglio dell'S&P 500 Semiconductor XSD. Anche è andato molto bene il Vanex Semiconductor, è qui, è molto più sbilanciato, vedete su NVIDIA 10%, Taiwan Semiconductor alto 10%, Broadcom 10%, AMD 8%, eccetera, eccetera. Vedete un po' Intel 4%, Texas Instruments 537%. Questi sono tre panieri importanti, andiamoli a rivedere dal punto di vista grafico. SOX, massimo storico, ma settimana chiusa con un calo dell'1%. SMH, massimo storico, ma settimana meno 1%. Anche qui c'è una scelta, ovviamente, prese di profitto in questa settimana, che ripeto, non sappiamo se sono propedeutiche a una correzione, a un'inversione, o semplicemente appunto prese di profitto prima di ripartire, eccetera, eccetera. E XSD, più conservativo come paniere, infatti ha fatto soltanto recentemente, sta cercando di riportarsi avanti. rispetto al massimo storico della fine 2021, inizio 2022, e in realtà la settimana scorsa si è portata avanti, poi è stato respinto. Qui, diciamo, ci sono i venditori. Andiamo anche a vedere un po' a livello volumetrico, da un punto di vista. Prendiamo prima tutta questa fascia e vediamo, diciamo, dove è il POC di tutto questo periodo, che comincia dal massimo precedente al nuovo massimo. Poi possiamo andare a vedere, appunto, se ci sono altri segnali volumetrici interessanti. Vedete, qui abbiamo, prendendo l'ultimo rialzo, quello da partito dallo scorso ottobre, abbiamo un POC un po' più in alto e vediamo, se partiamo soltanto dal precedente ottobre, vediamo dove si sono, se ci sono concentrazioni di volumi differenti. Quindi, diciamo, da questo punto di vista abbiamo la maggior parte, ovviamente, dei volumi più sotto. E vedete come ha lavorato molto bene questa concentrazione volumetrica. Ma al di là di questo, quello che è importante dire è che il settore dei semiconduttori, in questo momento è sugli scudi, ci sono alcuni titoli e alcuni panieri, appunto, da seguire, questi tre come panieri, e poi i titoli principali sono all'interno di questi panieri. E tra questi titoli ci sono alcuni, come NVIDIA, che sono, diciamo, molto molto estesi, e altri che hanno solo recentemente fatto breakout. Per esempio, vedete questo Monolithic Power System ha fatto breakout intorno a metà giugno. Anche Microchip ha provato a uscire da questa congestione, poi è rientrato per ora. Intel è quello messo peggio, me lo chiedevate anche nei commenti. In questo momento, Intel, diciamo, sta partecipando meno a questa festa del settore. Basta guardare i bilanci, le prospettive dell'azienda. E quindi il mercato non le sta dando tanto spazio da questo punto di vista e tanta fiducia nella rincorsa, nel melt-up dei semiconduttori. Ci sono altri titoli interessanti, vedete questo qui, Micro Technology, che ha fatto un breakout, un'ascesa parabolica, però anche esso è stato respinto nell'ultima settimana di prese di profitto. Io sto scorrendo un po' di titoli perché alcuni hanno fatto breakout a metà giugno di congestioni, altri invece, vedete questo Analog Devices, praticamente a metà aprile, intorno a maggio, ha fatto un breakout, quindi alcuni sono partiti dopo, molto dopo Nvidia, alcuni non sono partiti, vedete anche Broadcom, molto molto sugli scudi, però ha fatto recentemente un nuovo breakout a metà giugno. Quindi il settore, attraverso altri titoli, non soltanto Nvidia, ha avuto recentemente dei nuovi spunti rialzisti dopo delle congestioni. Ci andiamo ad analizzare alcuni singoli titoli, ma l'aspetto forse più interessante di questa nostra chiacchierata riguarda appunto l'analisi del perché sta accadendo questo. Ecco, in questo grafico di Iardeni vediamo innanzitutto da quando è partito questo movimento, cioè da novembre del 2022, che è coinciso anche con il bottom attuale del mercato azionario. Vedete, Nvidia ha fatto il 700%, l'S&P 500 Semiconductor, sull'indice che vedevamo prima, è salito del 254%, però si è riportato sui precedenti massimi, l'abbiamo visto prima, il Nasdaq 65%, il Nasdaq 100, il Nasdaq Composite, oltre 3.000 titoli, 55%, l'S&P 500 34, il Dow Jones, il 12%. Quindi vedete un po' come questo rialzo è un melt-up del settore dei semiconduttori che ha strasovraperformato anche gli stessi indici che lo stesso settore poi va a coinvolgere e sul quale impatta la performance. Ma se togliamo questo settore e vediamo il Dow Jones che sostanzialmente rappresenta la old economy e di semiconduttori a ben poco, abbiamo sostanzialmente in un anno e mezzo un 12% da questo punto di vista. Quindi questo ci fa capire che questo rialzo più che mai, se non l'avevamo già capito, nei numeri è totalmente trascinato dal melt-up dei semiconduttori. Ma questo melt-up e qui è ancora un altro interessante grafico di Iardeni, ci aiuta a capirlo, è guidato dal fatto che gli investitori hanno cambiato completamente il multiplo e le aspettative degli utili su questo settore. Vedete la linea verde che è in basso e il forward price earnings di questo dell'S&P 500 Semiconductors. È sempre stato intorno ai 15, sicuramente sotto ai 20, raramente è andato sopra ai 20, anche a volte diciamo nei momenti difficili intorno a 10, ma comunque con una media di circa 15 volte da parte di questo multiplo. Quindi in questo settore i semiconduttori hanno avuto diciamo una media di fiducia del mercato, un moltiplicatore sulla possibilità di accelerare di 15 volte sostanzialmente, un price earnings for world pari a 15. Adesso abbiamo questo 35.5, cioè il mercato sta moltiplicando, sta dando molta fiducia a questo settore e lo si vede anche nella linea blu forward earnings che siamo a 100, in questo caso a 170. Sostanzialmente il mercato, gli analisti si aspettano che queste aziende vadano a fare utili molto molto più alti rispetto ai precedenti. Del resto Nvidia nell'ultimo anno ha triplicato il prezzo in borsa ma ha quintuplicato gli utili. Quindi se analizziamo alcuni titoli come Nvidia comprendiamo il fatto che il mercato addirittura oggi paga meno Nvidia rispetto a quanto lo pagava, lo quotava un anno fa rispetto al tema degli utili. Cioè costa meno oggi in proporzione in Nvidia che non un anno fa perché nel frattempo ha quintuplicato gli utili. Quindi diciamo che molto molto importante è capire questa dinamica se gli analisti stanno azzeccando questa fiducia estrema che stanno dando a questo settore e andando a dargli una fiducia praticamente tripla rispetto alla media da 15 a 35 quasi insomma più che doppia rispetto alla media questo settore in fase di melt up in fase di capitolazione rialzista sta poi trascinando gli indici che ne vengono contagiati positivamente quindi un Dow Jones è poco contagiato e quindi fa una performance più bassa mentre gli altri indici Nasdaq 100 eccetera eccetera o i panieri di cui vi ho fatto vedere prima gli ETF eccetera eccetera più sono contagiati da questo settore più stanno andando bene e tutto dipende ancora una volta dal tema degli utili sono gli utili attesi in forte crescita per tutto il settore non soltanto per invidia e gli analisti si aspettano che anche altre aziende che magari non sono direttamente collegate ai semiconduttori beneficeranno però in termini di produttività di questa di questa ventata dell'intelligenza artificiale e quindi dei semiconduttori che sono praticamente l'infrastruttura per questa nuova rivoluzione digitale chiamata intelligenza artificiale il rischio bolla è ovviamente dietro l'angolo e dipende dipenderà se come è accaduto poi quando è scoppiata la bolla dei titoli internet sostanzialmente se e quando le previsioni saranno eccessivamente ottimistiche finché queste previsioni verranno confermate poi dalle trimestrali di queste aziende che in effetti stanno battendo molto molto le attese non è soltanto invidia ma anche per esempio Broadcom ha recentemente riportato una trimestrale straordinaria e quindi questo spiega il breakout grafico dopo questa congestione di Broadcom quindi sono gli utili generati molto molto forti in forte crescita nell'ultimo periodo e che corroborano aspettative ulteriormente ottimistiche per il futuro a sostenere questo settore che è il protagonista assoluto del melt up finanziario e che coinvolge ripeto in modo diverso i vari indici chi è più esposto a questo settore direttamente indirettamente più è salito di fatti da novembre del 2022 questo è questo questo è il momento che stiamo vivendo vorrei farvi vedere sempre per tornare a Pring vedete che i semiconduttori sono uno dei settori più più importanti nella fase 2 quella di ripartenza importante del mercato azionario diciamo la early fase di crescita del mercato azionario poi c'è la fase 3 quella centrale i semiconduttori sono anche lì davvero sugli scudi e poi c'è la fase 4 in cui ancora continuano a salire ma in proporzione un po' meno e poi nella fase 5 che è quella in cui non saremmo entrati in questo momento secondo Pring ripeto ci troveremmo in fase 4 per quanto riguarda lo sviluppo perlomeno del mercato azionario il mercato obbligazionario è impattato ne abbiamo parlato più volte da dinamiche relative al super deficit eccetera eccetera e alla scenario higher for longer alimentato anche da questo deficit che ha un po' sfasato le correlazioni intermarket ma per quanto riguarda l'azionario vedete se dovessimo entrare in fase 5 in questo caso i semiconduttori non sono tra i vincenti ma sarebbero i health cars i migliori almeno per quanto riguarda le statistiche di queste di queste fasi finanziarie andiamo a fare un altro discorso relativo alla stagionalità che personalmente osservo lo confesso la stagionalità è una qualcosa che mi piace osservare non è un elemento unico su cui prendo decisioni operative personali ma è uno dei tanti puntini che poi vado ad unire a seconda poi dell'operatività se si tratta di un'operatività di breve o di lungo può cambiare può cambiare tutto ma dal punto di vista della stagionalità è interessante analizzare che stiamo per entrare terminate le quattro streghe di giugno terminato la prossima settimana chi lo sa il window dressing comunque questo momento un po' particolare dell'industria del risparmio gestito entreremo nel mese di luglio il mese di luglio è per stagionalità il migliore dell'anno dal punto di vista il secondo migliore dopo novembre per quanto riguarda l'S&P 500 ma per quanto riguarda vediamo ad esempio i titoli tecnologici quindi andiamo a prendere l'XLK vedete che per le tecnologie in questo caso è il luglio è il migliore addirittura di novembre del migliore mese dell'anno dal punto di vista delle tecnologie vediamo se c'è anche la statistica sui semiconduttori in questo caso luglio non è il miglior mese dell'anno ma è comunque un mese positivo di gran lunga il migliore in questo caso è il mese di novembre però quello che mi sembra diciamo volevo darvi quest'ultimo spunto ci stiamo per avvicinare a un mese molto positivo per i tecnologici per le borse per anche per i semiconduttori in fase 4 i semiconduttori vanno bene e se siamo in fase 4 non lo sappiamo con certezza ma se siamo lì vanno bene e tutto questo ci fa capire che il melt up è ancora in corso è ancora in corso al momento dati alla mano statistiche alla mano eccetera eccetera però abbiamo vissuto anche una settimana di forti prese di profitto e quindi sono qui anche a chiedere la vostra cosa pensate invidia ha finito di correre e con essa eventualmente anche tutto il settore dei semiconduttori e con esso anche i principali destinazioni azionari quelli che stanno correndo di più trainati proprio dei semiconduttori oppure dal vostro punto di vista c'è ancora spazio spazio legato alla stagionalità spazio legato alla liquidità di cui parliamo spesso e che dovrebbe aumentare nella sua formula avanzata quella che analizziamo la formula della liquidità dovrebbe aumentare a lui o se il governo degli Stati Uniti andrà ad emettere molti più titoli di Stato a breve termine e questi titoli di Stato a breve termine potrebbero essere assorbiti dal reverse ripo market che a quel punto andrebbe quasi ad azzerarsi quindi anche qui c'è quest'altro tema potenzialmente bullish legato alla liquidità che nell'ultima nell'ultime giornate è un po' risalita e quindi ha un po' fatto male è un po' ridiscesa scusate dopo un rialzo di cui avevo parlato nell'ultimo video poi nell'ultima settimana l'ultimo dato ha dato un calo e forse anche per questo gli asset riscon hanno un po' sofferto nelle ultime sedute questi sono dati aggiornati settimanalmente quindi abbiamo avuto proprio venerdì il dato dell'ultima settimana che ha visto un calo di circa 100 miliardi di questa variabile però se dovessero andare e appunto il reverse ripomarche dovesse continuare a prosciugarsi nel mese di luglio perché a luglio è attesa un aumento delle emissioni di Tbilz la liquidità giocherebbe a favore ancora una volta di un riscone quindi il mercato è impossibile da prevedere soprattutto nel breve però questi sono un po' i puntini che volevo presentarvi e poi ognuno di voi andrà eventualmente ad unirli in modo personalizzato tra quelli che sono gli elementi bullish e quelli che sono gli elementi di attenzione potenzialmente bearish appunto che da parte di chi ipotizza che l'invidia abbia fatto il suo massimo e poi da adesso si va a scendere ripeto fatemi sapere voi cosa ne pensate a me pareva giusto farvi un riepilogo di tutto mostrarvi sia alcuni dei titoli più importanti che stanno cavalcando questo settore e poi i tre panieri che li racchiudono ma sono panieri anche diversi e quindi fare un po' di educazione finanziaria su questo settore che sta dominando il mondo dei mercati finanziari in melt up ripeto per i semiconduttori e tutto è legato a questa linea blu e a questa linea verde questa linea blu in forte ascesa sta giustificando una quotazione molto molto più alta in termini di prezzo utili rispetto al passato da una media di 15 siamo adesso a 35 quindi sicuramente possiamo dire qui vado a chiudere altrimenti sono troppo lungo che in questo momento i semiconduttori non li si paga certamente a sconto sono molto cari sono quasi appunto tre volte rispetto alla loro media storica come e come prezzo però tutto questo è supportato finora dagli utili che hanno portato però gli analisti sono ottimisti ancora sul fatto che continueranno a generare tassi di crescita importanti dagli utili e qui è la grande scommessa perché quando arriverà un momento in cui gli analisti dovessero essere più ottimisti della realtà a quel punto il melt up rialzista potrebbe anche girare dall'altro lato non sappiamo quando accadrà per quanto riguarda il settore internet a un certo punto nel marzo del 2000 è accaduto proprio questo per ora queste aziende stanno dimostrando forza resilienza e l'intelligenza artificiale e comunque è tutto quello che farà e potrebbe fare ancora da esplorare per certi punti di vista e quindi staremo a vedere non siamo certo alla fase iniziale di questo ciclo rialzista ma chi lo sa quando sarà la fase la fase finale ma saranno i semiconduttori l'osservazione attenta dei semiconduttori a dircelo bene fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti mi raccomando se questi contenuti vi piacciono iscriviti al canale arriviamo rapidamente a 20.000 iscritti almeno con 1000 like a video un saluto alla prossima